Buongiorno a tutti, grazie per la puntualità, ci troviamo oggi in occasione del nono incontro del ciclo formativo La Didattica ad inaugurare un modulo completamente nuovo, il nostro terzo modulo, andremo a parlare di dati aperti, lo faremo con uno dei massimi esperti nazionali in tema per cui lo ringraziamo e qui con noi lo vedete collegato, Andrea Borruso, esperto di dati aperti, anche di sistemi informativi geografici, ci spiegherà meglio cosa vuol dire, ci spiegherà soprattutto meglio come poter sfruttare dati aperti per valorezzare quello che è il patrimonio dell'EPA, cominceremo infatti con questo tema, di inaugurare il nostro ciclo, quindi il primo dei quattro incontri di questo modulo di riferimento, un paio di informazioni di servizio come sempre, prevediamo una brevissima pausa verso la metà del nostro incontro, questo lo diciamo per opportuna organizzazione di tutti quanti e lo strumento della chat che già vedo molto molto attiva, buongiorno infatti di nuovo a tutti quanti che si stanno continuando a collegare, potremo continuare ad utilizzarlo per porre le nostre domande all'esperto, ad Andrea che risponderà o durante l'incontro se pertinenti con il tema trattato oppure ci risolveremo comunque qualche momento alla fine del webinar per poter rispondere alle vostre domande. Adesso in chat andremo anche ad inserire il link dei materiali dei precedenti moduli che sono completamente pubblicati sia su Eventi PA che su Linea Amica Digitale. Adesso intanto Andrea benvenuto, grazie intanto di essere qui come prima cosa e ti lascio immediatamente la parola. Ciao e grazie a te Barbara. Grazie, grazie. Allora, fa una certa impressione vedere questa chat così ricca e sono molto contento, saluto tutte e tutti. Allora, una mini presentazione, questa presentazione a me fa anche un po' gioco perché i punti per cui mi presento in qualche modo hanno a che fare con i temi di cui parleremo oggi. Mi spiego, va bene, non leggo la mia email nel mio account Twitter. Io sono un esperto di dati aperti e di dati geografici. Il tema dei dati geografici è un tema importante nel mondo dei dati, è per certi versi uno del tipo di dato più richiesto, come categoria sono considerati anche in Europa ma dovunque come dati genericamente da classificare, è di alto valore, quindi è un tipo di dato, e in particolare come dato aperto, di grandissimo interesse, grandemente richiesto, anche un po' più difficile degli altri perché il dato geografico prende tantissime forme, tantissime modalità di presentazione. Sono l'autore delle vecchissime, uno degli autori delle vecchissime linee guida pendata del Comune di Palermo. Io come sentite al mio accento sono un siciliano, sono un palermitano. Perché ho voluto sottolineare queste cose in presentazione? Sia perché mi fa piacere, ne sono orgoglioso, sia perché un documento formale ma di principi è stato anche sostanziale, nel senso che il Comune di Palermo, grazie anche a quel documento che aveva una parte organizzativa ben fatta, documento ispirato ovviamente alle linee guida nazionali, derivato in qualche modo da quello, ha consentito agli uffici di organizzarsi. La parte organizzativa per riuscire a far per bene Open Data è sicuramente una parte fondamentale. Ci tornerò in tutti e quattro gli incontri che faremo. Sono tra i fondatori di una delle comunità più attive in Italia e questo ve lo cito di nuovo sia un po' per orgoglio sia perché il rapporto con le comunità, gli spunti che danno le comunità sono in qualche modo imprevedibili perché dalle comunità si può avere l'opportunità di andare oltre le norme, oltre gli obblighi, oltre magari delle linee guida ufficiali perché uno dei temi fondamentali, lo vedremo in un altro incontro, è cosa pubblico e allora una comunità attiva da questo punto di vista, una comunità con cui immaginare di interloquire è anche in maniera organizzata. Nelle linee guida di Palermo era previsto che ci fossero, se non sbaglio, un paio di incontri annuali con il mondo esterno. È stato ed è un fatto premiante. Sono fondatore di un'associazione che ha come gli obiettivi quello di stimolare la pubblica amministrazione a fare in modo che i dati possano essere veramente un bene comune, che i dati siano un bene comune è uno dei punti principali del piano per l'informatica della pubblica amministrazione. Facendo per bene la pubblicazione dei dati aperti i dati diventano realmente un bene comune e noi come associazione abbiamo fatto soprattutto in questo maledetto periodo Covid, delle azioni secondo noi importanti, ne citerò alcune, quelle utili a questo incontro. Una è proprio la campagna di bene comune, ma mi fermo con la presentazione. Allora, con il mio profilo devo dirvi che sono particolarmente emozionato di essere qui, sapendo che ci sono centinaia di persone, perché io fra l'altro credo moltissimo nella pubblica amministrazione. Uno dei motivi per cui alle volte chi mi conosce magari mi prende per un rompiscatole è proprio perché vale la pena rompere le scatole a un interlocutore credibile, a un interlocutore che può fare qualcosa, altrimenti non vale la pena. Allora la pubblica amministrazione per me, ma secondo me dovrebbe essere così per tutti, ha un ruolo chiave nella vita delle persone. E fare bene Open Data è un pezzetto delle opportunità, al di là delle norme, gli obblighi, è un'opportunità per chi come voi lavora all'interno di questa macchina, perché il patrimonio informativo, che è una parola molto più bella di dati, database, base, anche di Open Data tutto sommato, ma ho trovato sempre più bella come titolo quello che fare Open Data è soprattutto valorizzare il patrimonio informativo, anche perché alle volte sembra che gli Open Data siano un pezzetto di una banca dati diversa dalla banca dati della PIA. Chiaramente non tutte le banche dati devono diventare Open Data, ma delle volte un piccolo errore di programmazione è quello di non pensare che tutto quello che raccolgo in un modo o in un altro, rispettando tutte le norme, sin dall'inizio deve essere pensato come data aperto. Lo prevedono anche le norme più recenti. Noi faremo insieme quattro momenti didattici. Oggi facciamo un'introduzione generale. Un po' sorvoleremo su tanti temi. I dati aperti hanno tantissimi aspetti, quelli tecnici, quelli formali, quelli procedurali. È una bella macchina da guerra, insomma, come argomento. E poi ne faremo tre un po' più verticali. Uno legato alla preparazione dei dataset e delle risorse. Non vado troppo adesso nelle definizioni su cos'è un dataset, su cos'è una risorsa. Avremo modo in questi incontri di andare a dettagliare. L'altro è un elemento in qualche modo di maturità. La qualità dei dati è una parola chiave che sentite dire probabilmente anche voi da anni. Sembra quasi ripetitivo, però in realtà è un elemento un po' bloccante. Nel senso che un dato pubblicato senza tener conto della qualità, magari hai rispettato le norme, hai pubblicato con quella periodicità che era prevista, magari hai scelto la licenza giusta, hai scelto un formato giusto, però la qualità è tante altre cose. È quel dato che magari, ripeto, nessuno vi potrà dire nulla. Tutto sommato sei a norma. Se non hai pensato sin dall'inizio di pubblicare rispettando alcuni criteri di qualità, rischi di aver pubblicato un dato che probabilmente non sarà valorizzabile. E questo è un grande peccato, perché se dedichiamo tempo alla pubblicazione è bene che quel dato possa essere di più di un obbligo di pubblicità. Le buone pratiche di pubblicazione e di riuso saranno una bella carrellata, sia dal punto di vista di quello che fa la PIA in termini di pubblicazione, sia per quello che fa il mondo esterno, dove per mondo esterno parleremo delle multinazionali, ma così come di uno studente del liceo che immagina di fare un portale open data covid sui comuni siciliani. altra cosa che tengo a precisare è che questo tipo di aula, un'aula con centinaia di persone con profili professionali molto diversi, chiaramente ci ha spinto a fare un certo tipo di contenuti, per cui dirò delle cose per alcuni probabilmente banali, ma tenete conto che oggi ci sono grandi e piccole pubbliche amministrazioni e soprattutto professionalità veramente diverse, quindi questo è importante per me in premessa. Dunque partiamo da dei requisiti, come dire, minimi, quello che leggo in realtà andrebbe virgolettato, poi vedremo qual è la fonte. Dunque i dati aperti sono quei dati che sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che permetta l'utilizzo da parte di chiunque anche per finalità commerciali in formato disaggregato. Soltanto in questa frase c'è da sbattere la testa, nel senso che a chi di voi fa già bene questo mestiere è tutto veramente scontato, ma nel quotidiano una licenza sbagliata è ancora molto diffusa anche in portali, alle volte ministeriali. Vedremo qualche esempio successivamente. La licenza non è un fatto da poche parole. La licenza è in qualche modo ciò che dice alle persone cosa possono fare. A me non piace raccontarla sul cosa non si può fare. La licenza in qualche modo è tutto il contrario a ciò che abilita. È un elemento in positivo. E anche il tema del formato disaggregato è un altro elemento così chiave che rende un dato pubblicato utilizzabile o meno. Perché se voi dovete descrivere una pandemia e per descrivere la pandemia aggregate per stato, per nazione, non riuscirete a descrivere quel fenomeno. Ovviamente sto un po' esagerando per fare un esempio facile da introduttivo, ma licenze e formato disaggregato in un solo punto sono già una cosa enorme. Quindi requisiti, licenza, adatta, vedremo quali sono, formato disaggregato, quindi requisito. Sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i ricompresi le reti telematiche pubbliche e private, informati ai perti, ai sensi e la lettera L e BIS, dove si cita il CAD. Anche qui, questo elenco puntato è un altro elenco enorme, in un italiano un po' burocratico, nel senso che se dovessimo dirlo a un amico non lo diremo così, ma insomma devono essere accessibili al click, su un sito web, tramite dell'API, quindi vedremo poi cosa vuol dire, ma in linea di massima devono essere accessibili in modo che un computer possa parlare con un altro computer in maniera automatica, il cosiddetto accesso machine to machine. Poi le tecnologie e le informazioni sono infinite, N1000, due esempietti per ora, e poi in formati aperti. Entreremo nel dettaglio su cosa sono, è uno degli elementi chiave, non fermiamoci soltanto al formato, faccio solo l'esempio del famoso CSV, è uno dei formati aperti perché non impone barriere tecnologiche, perché in qualche modo è descritto, anche se non è descritto in maniera, come dire, non ha un vero standard, ci torneremo tra un po', ma ha queste due caratteristiche, ma non basta, è un pezzetto del tutto. Sono date l'utilizzo automatico da parte di programmi per laboratori e sono provvisti dei relativi metadati. Anche qui sembra scritto in maniera un po' formale, ma vi faccio un solo esempio, scaricate i dati sulle lezioni al recente referendum, scaricate i dati per comune e nei nomi dei comuni, e c'è soltanto il nome del comune, e magari Cefalu è scritto con l'apostrofo e non con l'accento, e magari fate poi l'incrocio di questi dati con altri dati, e Cefalu salta perché nell'altro database, nell'altro data è scritto con l'accento diverso. E allora l'utilizzo automatico è la possibilità di utilizzare dei codici, degli standard per descrivere ad esempio i comuni, per esempio Istat definisce con dei codici tutti i comuni d'Italia. C'è una domanda, mi interrompo un attimo, la lettera LBIS fa riferimento al CAD, adesso lo, al codice di dimensione digitale, adesso ci torniamo, e ho predisposto una sitografia che poi sarà messa a disposizione di tutte le persone. In ogni caso tenete conto che per i riferimenti di questo tipo, su dati.gov.it, su portale nazionale dei dati aperti, c'è una sezione, non vi posso condividere lo schermo, ma c'è una sezione che si chiami fare open data, dove sono riportate tutte le norme. Fra l'altro oggi è un giorno caldissimo per le norme, ci tornerò nel finale. Per pura fortuna oggi succede una cosa importante. Ultimo requisito, sono resi disponibili, ultimo, in realtà tra i requisiti di quelli che ho preferito citare, come dire, di super livello alto, di super interesse, sono resi disponibili gratuitamente, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Questa frase è un po' scritta sempre a qualche anno, erano i tempi che c'erano i cd e i dvd, ricordo che per la cartografia, se non sbaglio mi è capitato, non mi ricordo per quale istituto, dieci anni fa, quindici anni fa, non mi ricordo, che pagai alcuni euro per l'archiviazione su cd o dvd, ma in liari massima dati gratuiti, i costi devono essere soltanto marginali e devono essere giustificati. Nella nuova normativa sui dati aperti, sulle linee guida che stanno entrando in queste settimane, troverete una parte dedicata a questo tema. Il riferimento che ho usato per questi quattro punti e l'elenco puntato è il mitico codice dell'amministrazione digitale. Io non sono un esperto di norme, io nel mondo di open data sono soprattutto un tecnico, sono uno di quelli che trasforma dati, li analizza un testo per chi non è esperto, per chi non fa questo di mestiere, che può sembrare difficile. In realtà, diciamo, alla terza lettura si fa apprezzare, non ve lo consiglio di leggere la notte, ma è molto interessante. Quando c'è qualche dubbio, farci il riferimento non è male. Ho voluto fare una slide, diciamo, di strumenti legato a un sito bellissimo che si chiama Norma Attiva. È il portale delle leggi vigenti. È molto comodo perché trovate tutte le norme, perché vi dà la possibilità, leggendosi un po' il manuale, capendo un po' come si fa, di fare anche una cosa molto comoda. Le norme alle volte sono molto ricche, 60 punti, e se volete condividere con qualcuno l'articolo 3 soltanto, c'è la possibilità di generare l'url, per cui inviate in chat, inviate per email, l'url che punta direttamente a quella norma, posto che ovviamente si possono fare i copy and call, gli screenshot, eccetera, eccetera. Però non oggi, nei prossimi incontri, io vi farò un elenco degli strumenti utili per chi fa questo mestiere. Sicuramente questo sito Norma Attiva, secondo me, è da considerare come strumento anche per chi come me è un nerd, uno che soprattutto lavora con i dati, perché le norme, alle volte, sono uno strumento utile per fare anche bene quel lavoro tecnico. Chiaramente tutto quello che abbiamo detto, molto generalizzato, molto di alto livello, sino ad adesso, tutte le norme legate agli Open Data devono tenere conto di altre norme che hanno a che fare con ciò che andiamo a pubblicare online. E quindi, quando vi dicevo in premessa, è una disciplina, è una procedura che richiede tantissimi esperti, anche dentro la pubblica amministrazione. Questo chiaramente può essere un problema per piccole amministrazioni piccole. E quindi la privacy, che è un tema normativo sempre per fortuna più noto, è un tema ormai anche lui vecchio, ma con l'utilizzo, a volte con l'abuso dell'utilizzo di alcuni strumenti, ci scoppia in faccia, non ci rendiamo conto delle informazioni che diffondiamo e, quando pubblichiamo Open Data, dobbiamo sicuramente rispettare le norme sulla privacy ed essere sicuri che non emergano elementi che possano risalire a quello che fanno le persone e alle persone in particolare. E ovviamente la sicurezza nazionale, non banalizzo esempi, ma insomma, dobbiamo tenere conto di tutte le norme che hanno a che fare con il tema informativo. Licenze. Ok. Quando ho iniziato a lavorare con i dati, mi piaceva soltanto fare trasformazioni di dati, pulizia, grafici, mappe. Poi arrivava, che ne so, il mio amico Maurizio Napolitano, che già era attento alle licenze e mi diceva, eh no Andrea, hai usato Google Maps per fare il geocoding e quindi non sono più Open Data. Non entro nel dettaglio, poi probabilmente ci torneremo prossimamente, ma quello era un esempio per cui avevo fatto un bel lavoro sui dati. Avevo tirato fuori, non ricordo cos'era, un qualcosa, fate finta i monumenti della mia città, non c'era il portale nazionale ancora, e avevo impoverito, avevo reso quasi inutilizzabili quei dati perché nonostante partissi da informazioni aperte, li avevo sporcati con uno strumento che forzava il cambio di licenza e quei dati non erano più utilizzabili da nessuno, né da un turista, né da un altro che voleva fare un'applicazione, me li potevo stampare e mettere nella parete di fronte per guardare i monumenti di Palermo. Parto con un esempio. Io in queste lezioni citerò delle pubbliche amministrazioni e sembra delle volte che voglio fare i cartellini gialli, i cartellini rossi, non ho questo ruolo, non sono nessuno. Se faccio degli esempi, alcuni possono essere sbagliati, eventualmente fatemelo notare, li faccio semplicemente perché sto parlando con la pubblica amministrazione e quindi mi torna utile fare degli esempi veri, concreti, non stare sul teorico, è la mia modalità di fare didattica. Allora, questo è un portale importantissimo. È il portale delle acque del Ministero della Salute, è una cosa che soprattutto ci torna nelle orecchie in questi mesi caldi perché è un portale in cui ci sono i dati sulle analisi ambientali a mare ed è un posto dove magari chi vuole portare, chi vuole andarsi a fare un bagno, chi vuole portare alla famiglia va a dare un'occhiata, soprattutto in luoghi dove ci sono troppe persone, in città molto dense, dove il tema dell'inquinamento può essere, può avere un impatto. Nei primi mesi del 2021 questo portale, non so quanto sia leggibile, lo leggo io, nelle note legali aveva una frase in cui diceva tutti i contenuti del sito sono forniti con una licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, non opere derivate 4.0. Questo elemento, questa frasetta, rendeva un patrimonio informativo da valore enorme. I portali ambientali, allora vi dicevo in premessa che i dati geografici sono i dati quelli più, tra virgolette, ricercati, più usati. Se voi fate mente locale e pensate a come viene rappresentato un dato, nella gran parte dei casi pensate a una mappa, che sia pallini, che sia poligoni, ma pensate a una mappa. Tra i dati territoriali, quelli ambientali forse sono proprio il botto, perché chiaramente sapere che aria e respiro, che acqua bevo, che suolo c'è, che tipo di rifiuti, come vengono gestiti, cosa c'è di più importante rispetto alla vita quotidiana, rispetto a una comunità. Quei dati avevano questa licenza. Questa licenza è una licenza sbagliata. bastava leggere le linee guida sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, le vecchie, nelle nuove, che vanno in consultazione in questi giorni, è riportato, perché non potevi fare addirittura nessun'opera derivata. Quindi immaginiamo che io prendessi dei dati da quel portale e volessi fare un po' di divulgazione e per fare questa divulgazione derivavo dei dati, cioè prendevo tre punti campione in cui c'erano dei valori, usavo quei valori per generare un indice, un indice di vivibilità in quella zona, e poi volevo fare un comunicato nel mio quartiere, nelle mie città. Non potevo fare nemmeno questo, potevo soltanto fare visualizzare i dati così per come erano e non potevano rappresentare le opere derivate. Abbiamo semplicemente poi citofonato al Ministero e quella licenza è stata cambiata. Ho visto una domanda, arrivo tra un attimo. Cosa vuol dire quella licenza? Allora, tanto per cominciare, le Creative Commons sono delle licenze inventate diversi anni fa, soprattutto per andare incontro al come licenziare i primissimi dati che stavano inondando il web, che più o meno erano le canzoni, i film, i disegni. Quindi sono licenze che nascono inizialmente non per i dati. Però in quel tipo di lavoro c'era un obiettivo bellissimo, che era quello di rendere le licenze un tema per tutti, cioè associare al formalismo, perché le licenze hanno un forte formalismo, hanno pagine che spiegano tutti i cavilli, diciamo, ma anche riuscire a dire quel formalismo con poche parole chiave molto leggibili. Uno, l'accoppiata tra formalismo ben scritto e l'obiettivo di far capire come la licenza fosse un'opportunità e non un divieto, è stato uno dei motivi di successo delle licenze dei Creative Commons che abilitarono moltissimi di quelli che facevano, per esempio, composizioni musicali, a rendere disponibili dei brani in modalità che un po' li tutelassero. Quindi utilizzavano spesso la CC BY, che vuol dire citare la fonte, quindi Tizio Caio magari veniva citato in un documentario della BBC perché veniva presa quel brano che era pubblicato, la fonte citata, il sito citato. La licenza che aveva il portale delle acque era CC BY, NC, ND. BY vuol dire che devo attribuire, è previsto diciamo nella classica licenza pendata utilizzata in Italia, ci arriveremo tra un po', e quindi bisogna riconoscere la menzione di paternità adeguata, quindi dati prelevati dal portale nazionale. E' un altro formalismo, ma sostanziale, quello di non solo citare la fonte, ma anche fornire una licenza, il link alla licenza, perché quella licenza deve essere leggibile, non devo soltanto scrivere è una CC BY, devo mettere il link alla licenza. NC, non commerciale, nelle licenze pendata non è possibile che sia non commerciale, perché appunto, vi dicevo, la valorizzazione del patrimonio informativo, come lo valorizzi, insomma, senza la parte commerciale, posto che valorizzare non vuol dire soltanto fare soldi, ci mancherebbe. Però le linee guida nazionali ed europee, ovviamente, escludono la NC come licenza da associare ai dati aperti. Quella che io ritengo sia l'errore, il paradosso per certi versi, più grande, non è tanto quello del non commerciale, ne potremmo discutere sul non commerciale, ma è quello dell'ND. ND vuol dire non opere derivate, ovvero io pubblico dei dati e tu te li puoi essenzialmente guardare, mentre il dato tendenzialmente è un elemento che io uso per costruire informazioni che prima non c'erano e quindi metto insieme le spiagge, i dati sull'inquinamento, la popolazione, l'economia, i parchi giochi e scelgo dove andare in vacanza. In qualche modo questa cosa che faccio in maniera personale, che mi tengo per me, non sto facendo l'app per andare in vacanza, ma potrei fare anche l'app per andare in vacanza, è un'opera derivata, è il minimo, non fare in modo che si possano fare opere derivate. Vado avanti, quindi l'altra cosa interessantissima delle licenze Creative Commons, ma che è un suggerimento, se utilizzate altre delle licenze possibili per dati aperti, poi vi dirò i riferimenti. Una cosa molto bella delle licenze Creative Commons è che hanno questa paginetta che spiega a mio cugino, che non ne sa molto di questi temi, con poche parole, frasi, con i grassetti, cosa posso fare e non fare. L'open by default. Allora, le licenze devono essere associate ai dati aperti. Non potete fare un portale senza una licenza associata, lo prevede alla procedura. Sul portale dati nazionale viene fatta una verifica sui portali che sono ripubblicati nel portale nazionale, perché il portale nazionale fa il cosiddetto arvesting, cioè raccoglie dati aperti che vengono da altri portali aperti di regioni e comuni, e nel fare questa ripubblicazione fa anche dei check delle verifiche. Una delle verifiche che fa è sia che la licenza sia specificata, sia che sia una delle licenze aperte. Però, in generale, è utile citare un altro degli articoli del codice d'annunzione digitale, che è il cosiddetto open by default. Spero che sempre di più non venga citato, perché ripeto, non esiste un portale open data senza licenza, ma mentre per un privato, se io pubblico pubblico in un sito web qualcosa, e non specifico la licenza, vale tutti i diritti riservati, quindi se Andrea Borruso pubblica dei dati sul suo sitarello che si crea in una notte, vale il copyright, quindi nessuno ci può fare nulla. Per la pubblica amministrazione è esattamente il contrario. In siti web, in cui la pubblica amministrazione non inserisce nessuna nota legale, i dati pubblicati vengono considerati aperti perché la pubblica amministrazione, che raccoglie dati per dare servizi alla cittadinanza, viene dato per scontato che rende quei dati che pubblica sono miei, perché io sono la pubblica amministrazione, tutti insieme siamo il paese e quindi il punto di fondo è questo. E lo dice in maniera anche qui un po' formale un articolo del CAD, però appunto è meglio sempre definire la licenza. Anche qui un altro caso su cui abbiamo fatto come associazione una segnalazione che è stata recepita. Questo è un altro ministero di enorme valore, probabilmente lo direi per tutti, devo dire la verità, perché comunque stiamo parlando di luoghi raccoglitori di altissimo livello. Ma nelle note di copyright del sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca c'era scritto che i contenuti del sito sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell'ingegno. Insomma, come se i contenuti del sito del Ministero dell'Istruzione fossero un po' come il sito dei Maneskin, lo dico semplicemente per fare un esempio didattico, non la prendete come una provocazione. Cioè chiaramente è possibile che ci siano dei contenuti protetti da diritti anche nel sito del Ministero dell'Istruzione, ma dovrebbe essere, e così adesso è, che tutti i contenuti di un sito pubblico amministrazione sono da considerare, diciamo, non parlo del portale Open Data, qui sto dicendo in generale i contenuti, dei contenuti per cui gli utenti ci possono fare cose, non sono, non sono protetti, salvo quegli spazi in cui non è così perché ci sono dei diritti da tutelare. E allora si dice che tendenzialmente tutti i contenuti, tutte le pagine sono con contenuti utilizzabili e al contrario si applicano delle specifiche per quei contenuti, per quei siti in cui non sono applicabili. La versione successiva di questa slide deriva dal bel dialogo costruito con la pubblica amministrazione perché noi abbiamo fatto una segnalazione al difensore civico per il digitale, che è una figura di riferimento anche nel tema dei dati aperti, perché il difensore civico per il digitale è un ufficio che deve verificare eventuali, come dire, deve verificare che venga rispettato il CAD in qualche modo. E siccome i dati aperti ricadono sotto quel cappello, può essere un ufficio a cui fare riferimento. Abbiamo fatto la segnalazione, il difensore civico ha segnalato al ministero, il ministero ha recepito e nelle note legali, nei termini di servizio del ministero e dell'istruzione, adesso c'è una delle classiche licenze aperte. La CC BY 4, quindi vi ho fatto come primo esempio un esempio negativo, non era una licenza aperta perché c'era non commerciale, non opere derivate. Vi ho raccontato l'open by default, che bisogna saperlo nei casi in cui si pubblicano dati da qualche parte senza mettere una licenza. Occhio alle norme, occhio a inserie sempre alla licenza perché se non si inserisce si vanno a guardare le note generali e nelle note generali può essere come il sito del ministero dell'istruzione in cui i dati non sono utilizzabili, è per quello che è utile sempre metterle perché altrimenti valgono poi le note generali. Mentre una delle licenze consigliate, la consigliata in realtà, le licenze standard da utilizzare ai dati aperti sono diverse, quella consigliata nelle vecchie linee guida, perché adesso stanno entrando proprio in questi giorni stanno arrivando le nuove, è la CC BY 4 che comunque viene confermata tra quelle consigliate nelle licenze per gli open data e danno la possibilità di, all'utente, di condividere, riprodurre, ridistribuire, comunicare al pubblico, esporre al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare perché chiaramente parliamo di opere di qualsiasi tipo e tenete conto che io ho visto opere teatrali e soprattutto concerti basati su dati aperti, delle follie, ve lo racconterò nell'ultima lezione, ma soprattutto di modificare, quindi di remixare, trasformare il materiale e basarmi su esso per opere per qualsiasi fine anche commerciale, quindi i due punti chiave della CC BY 4 sono questi. Devo, quindi questi punti mi indicano cosa posso fare con questi dati e queste qua sono le condizioni di massima, poi la norma è un po' più ricca che devo rispettare, devo attribuire, quindi devo dire chi l'ha fatto citando la licenza. Questo secondo me è interessante sia come dire, per giusta, come dire, il minimo, cioè, porca miseria, ho fatto un'app, sto pure facendo business grazie al fatto che il comune di Milano ha pubblicato dei dati sull'inquinamento atmosferico live, ma l'altro aspetto interessantissimo di attribuire la fonte è poter replicare tutto quello, perché la cosa bella dei dati aperti e farci cose. Allora, se io scopro che c'è un'app bellissima, un sito bellissimo, capire come ha funzionato tutto il processo che ha portato alla realizzazione di quel servizio, a quell'app, a quel grafico, a quella mappa, e quindi vedere qual è la fonte dati, ma può farvi venire a me un'altra idea su un'app completamente diversa, grazie al fatto che vado a mettere gli occhi sui dati grezzi, alla materia prima, alla farina con cui quell'azienda ha fatto quel business. Quindi l'attribuzione è di nuovo, ancora una volta, un'opportunità. Io ve lo dico, io non sono pubblico amministrazione, ho lavorato spesso per la pubblico amministrazione fino a qualche mese fa, sono stato dentro in qualche modo, anche nel tempo lungo. Ripeterò spesso questo aspetto del tenere conto del fuori, così come noi del fuori dobbiamo tenere conto del dentro, nel senso che io, lavorando dentro la pubblica amministrazione, ho capito che quelli che mi sembravano degli errori derivavano da procedure che sono quelle e bisognava tenerne conto. Quindi l'attribuzione è un'opportunità, oltre un obbligo nel caso della licenza. E poi, se quei dati consentono di fare certe cose perché quella licenza lo prevede, io non posso poi mettere delle restrizioni aggiuntive a quei dati. Quindi questi qua sono gli elementi. Un'altra licenza considerata è una licenza open data. Nelle prossime linee guida di pubblicazioni in questi giorni credo che ci sia un cenno al fatto che questa licenza, la CC BY SA, in qualche modo è leggermente sconsigliata. Ora vedremo un attimo il perché. Allora, è una licenza quasi del tutto uguale alla precedente, quindi ci posso fare quello che voglio, uso commerciale, devo citare la fonte. In più, c'ha l'SA che vuol dire share e like, cioè condividi allo stesso modo. ed è una licenza virale, un po' come alcune licenze del codice aperto. Del codice aperto ci sono delle licenze che, se io utilizzo del codice sorgente aperto e faccio una nuova applicazione, anche la mia applicazione deve avere il codice sorgente aperto. Quindi uso quel codice, anche il mio codice viene contagiato. La licenza share e like impone questo, ovvero se io scarico i dati dalla regione Marche e trasformo poi i dati per fare un sito web che mi dà di nuovo l'indice della qualità della vita, quindi creo dati nuovi, perché creo un indice, quindi a partire da dati grezzi creo un indice, quei numeri che io ripubblico devono essere anche loro accessibili con la stessa licenza. Quindi questa licenza cosa c'ha di bello? Che se io pubblico dati aperti, in qualche modo impongo che quei dati, anche i dati derivati, rimangono aperti, quindi è virale perché saranno sempre dati aperti. Perché adesso qualche volta si sconsiglia? Io non ho un'idea chiara ancora, non vi so dare, non vi dico cosa ne penso io. Uno dei problemi qual è? Che nei casi a volte delle multinazionali questo può essere un problema, perché la multinazionale sui temi delle licenze, di quello che ci fa con le cose, e con tutto il business enorme che c'è alle spalle, non può scegliere in maniera semplice e leggera di fare queste scelte. E allora ci è comodo cercare la pizzeria Vattela Pesca e trovarla subito su una mappa, non parlo qui di OpenStreetMap, purtroppo parlo delle multinazionali, avere le foto, il numero di telefono, l'orario di chiusura. Alcune di queste cose sono possibili grazie al fatto che le licenze in origine sono CCBuy e non Sharealike, e la multinazionale in qualche modo poi si tiene stretto l'opportunità di business in qualche modo, ce la dà in front end, cioè noi la guardiamo, la utilizziamo, ma molti di quei dati derivati non sono poi a disposizione. Quindi diciamo nelle linee guida in pubblicazione in queste ore, credo che ci sia una nota su questo tipo, in ogni caso CCBuy e CCBuy SA sono pienamente licenze utilizzabili nei portali OpenData. Dovete sapere che la SA è virale e che ci possono... Allora, mi fermo un attimo, c'è una domanda. Allora, in che senso non può trainare contenuti nascosti, nel senso che quello che obbliga è semplicemente... Allora, quello che c'è nei dati lo sa la pubblica amministrazione. Contenuti nascosti, salvo che non scelga modalità strane, non ce ne sono, perché tutti i dati aperti hanno dei formati che sono leggibili dalle macchine, quindi teoricamente non ci possono essere cose, diciamo, non visibili. Lo Sharealike impone che i dati derivati, quindi da me, ricercatore, che faccio un'analisi e produco nuovi dati, devo imporre la stessa licenza. Non c'è il tema del dato nascosto. Sempre dati aperti sono, ma impongono a me che utilizzo quei dati di utilizzare dati aperti. Questa è una vecchia slide, nel senso che nelle nuove linee guida questa slide è stata aggiornata. Chiaramente ci sono molti punti in comune. Chiaramente i blocchi divisivi sono ancora questi, nel senso che le licenze non open data, alcune ve l'ho citate, sono quelle sulla destra, sono in rosso. Chiaramente devo poter fare opere commerciali e devo poter fare opere derivate. Sono i due punti chiave. Poi abbiamo le YODL, che sono delle licenze italiane aperte, potete utilizzarle tranquillamente. Poi ci sono un paio di licenze nuove e nelle nuove linee guida viene finalmente data più attenzione alla licenza CC0, che in qualche modo è un po' una non licenza, la banalizzo un attimo, nel senso che i dati sono completamente di pubblico dominio, ovviamente sono dati aperti. Ok, ricordate i primi quattro punti del punto elenco. Un elemento chiave era quello della licenza, ciò dedicato del tempo è sempre molto poco, il tema della licenza è un tema molto ricco. e andiamo a prendere un altro di quei punti elenco. Allora, mentre la licenza in qualche modo vi blocca, o vi dà un'opportunità, in dipendenza di come leggete la licenza, ma soprattutto in dipendenza di cosa c'è scritto nella licenza, però in qualche modo, alla peggio, quei dati mi riscarico e mi riguardo sul mio PC, diciamo questo tendenzialmente lo posso fare sempre, il dato aggregato è invece un qualcosa che rende quel dato praticamente non dato, perché nella gran parte dei casi non consente di guardare un fenomeno, di comprendere un fenomeno, di prendere decisioni su un fenomeno e quindi, diciamo, è uno degli elementi chiave. Chiaramente, pensiamo alla privacy, facciamo di nuovo il maledetto esempio della pandemia, non pubblicherò dove stanno di casa i contagiati, perché va bene dati disaggregati, ma non ha senso, diciamo, fare la mappa a pallini dove stanno i malati. Chiaramente questa mappa a pallini e questi dati potranno essere messi a disposizione dei centri di ricerca che prendono decisioni per noi, ma non sono dati aperti, quindi dati disaggregati nel rispetto della privacy e rispetto anche al fenomeno che stiamo osservando. Se devo pubblicare le medaglie d'oro di uno stato alle Olimpiadi, che cosa me ne faccio della provenienza dei comuni da cui vengono gli atleti? Sì, voglio verificare che dal comune di Monfalcone ci sono più medaglie d'oro, ma non mi sembrano credibili queste cose. Quindi, chiaramente, la disaggregazione è anche una scelta tematica, una scelta di dominio, una scelta che fa l'esperto rispetto a quel dato, ma in linea di massima si dice pubblicate il dato nella forma più grezza possibile e più disaggregato possibile, altrimenti è difficile farci analisi. Sulla pandemia abbiamo avuto e abbiamo tantissimi esempi. Ne abbiamo parlato troppo di questi dati, io per primo, ma per esempio su molti di questi numeri nella gran parte dei casi non si andava a dare i territoriali oltre le province. Ripeto, parlo dei dati aperti, non parlo dei dati che utilizza il mondo della ricerca. E questo è un po' un problema, nel senso che è un fenomeno, in realtà è un fenomeno senza confini la pandemia, quindi anche il dato comunale per certi versi è una rappresentazione parzialmente sbagliata. Però se voi pensate in quei momenti terribili in cui c'erano i 30 km a partire dai limiti comunali, dove spostarsi, ci fu a dicembre del 2020 delle cose complicatissime, avevamo delle norme non correlate, scelte sulla nostra vita quotidiana non correlate con la possibilità di leggere quell'informazione. E lo so, voi mi direte, ma la gente non le capisce quelle informazioni. Ok, ma lo possiamo dire di tutti i dati. Quindi non pubblichiamo dati? Diciamo, noi pubblichiamo dati pensando a quelle persone che le possono utilizzare e che le capiscono. E poi ricordiamoci sempre, è vero, al bar sentiamo dire delle corbellerie, ma se i dati ci sono possiamo dire a quello che dice le corbellerie, guarda, leggi bene, ci sono questi numeri. Quindi non voglio entrare nelle prediche perché poi mi faccio prendere, ma quello della pandemia su alcuni aspetti secondo me è stato limitante rispetto proprio al taglio geografico. E sempre all'aggregazione, qua vi dico un tema che sta finalmente arrivando, è un tema che ha un impatto importante sulla vita delle persone, è un tema che ancora troppo spesso è da inchiesta giornalistica estiva, dico io, e vi porto soltanto un esempio. parlo del divario di genere, è il divario retributivo, se sono uomo o se sono donna, anche in Italia, è un problema con dei numeri importanti. E allora perché vi cito questa cosa? Perché in molti dati che poi pubblichiamo, in molti dati che poi pubblichiamo, non teniamo conto del fatto che il mondo alcune cose sono diverse in corrispondenza del genere. E anche la possibilità di capire se ci sono problemi negati al genere non emergono se io non riesco a pubblicare dati che fanno emergere ad esempio questo tipo di numeri. Quindi l'aggregazione territoriale è un esempio, non aggreghiamo territorialmente. L'aggregazione per genere tutto sommato è un altro esempio. Siamo stati al voto per i comuni in circa mille comuni italiani. oggi questi numeri non sono ancora disponibili. Sappiamo nome e cognome dei sindaci ma non c'è il database pubblico che dice sono uomini o donne e dice ma che ce ne frega? Eh vabbè, però se continuiamo ad avere un mondo con queste enorme differenze in cui spara un numero in cui l'80% sono uomini e i sindaci e il 20% è donne un problema c'è. I dati aperti servono a comprendere il mondo. Disaggreghiamo anche per questo tipo di elementi. Formato aperto era ovviamente uno degli elementi per definire un dato aperto quindi la licenza il dato disaggregato il formato. Il formato forse è la cosa più nota. Molto spesso ci fermiamo a dire hanno pubblicato il CSV sono dati aperti. mettendo insieme formato è open data come se fossero sinonimi. Non è così. Senza licenza, senza qualità, senza metadati, senza descrizione, senza modalità automatiche vedremo tutti questi punti non sono open data però il formato aperto è sicuramente un elemento bloccante, importantissimo. è un formato che non pone ostacoli di natura tecnologica. Vi faccio un esempio magari non conosciuto da chi non si occupa di cartografia c'è un formato famoso che si chiama DVG è un formato per architetti non è un formato di scambio perché tendenzialmente ci vuole per poter leggere il dato grezzo ci vuole del software proprietario mentre il formato aperto non deve porre problemi di natura tecnologica cioè devo poter aprire quel dato da qualsiasi sistema operativo quindi software non solo anche gratuito ma che non sia soltanto sviluppato per un sistema operativo piuttosto che un altro quindi non devo avere ostacoli tecnologici devono essere machine readable ovvero leggibili da una macchina i computer sono cretini non sono intelligenti se io pubblico una tabella in un pdf scansione o anche in un pdf ok ci sono i trucchetti per trasformare quella tabella in un foglio excel in un csv ma la macchina da sola salvo che io non sappia poi ben programmare eccetera eccetera si ferma non riesce a fare l'analisi poi se quelle pagine pdf sono 50 c'è un problema poi se quelle pagine pdf hanno per pagina da 5 a 10 uno stile da 15 a 20 un altro stile ci fermiamo ancora i dati aperti devono essere informati abilitati al processo automatico cioè qualcosa che inserisco nel sistema e il sistema sa elaborare dei valori e farci qualcosa stiamo per andare in pausa e finisco questa slide devono preferibilmente essere disponibili in massa si dice bulk in termini in inglese ovvero in alcuni siti dove si pubblicano dati aperti devo fare decine di download per scaricare tutti i dati che hanno a che fare con un singolo fenomeno o che è possibile evitate questo perché un conto è fare i file eletti da leggere a schermo per fare dei comunità di stampa un conto è predisporre dei file per fare un'analisi ricca di una serie temporale lunga per tutto il territorio chiaramente sui big data avremo tante cose da dire ma delle volte ci sono siti di amministrazione che pubblicano centinaia di fogli elettronici da 10 righe e 100 per 10 non è un gran numero fai un singolo file è la modalità consigliata i formati aperti devono avere le specifiche documentate anche questo sembra un fatto formale ma le specifiche consentono a me che faccio software di creare un software nuovo di creare del codice che sa leggere quei dati partendo da zero quindi io non uso un database non uso un foglio elettronico non uso python utilizzo un altro linguaggio di scripting ma siccome quel formato è documentato cosa vuol dire è documentato in un csv ci sono n campi ogni campo è separato da una virgola quindi devo spiegare al mio software di cercare i separatori e cercare dei caratteri speciali e ci torneremo e non deve il formato aperto non deve porre restrizioni economiche all'utilizzo cioè devo poter accedere a quel formato senza che io sia obbligato a fare degli sforzi economici dico l'ultima slide e poi mi fermo chiaramente per chi pubblica dati aperti questa definizione del formato vale a valle non siete obbligati a lavorare internamente con formati aperti è inutile utilizzare un csv per milioni di righe diventa inutilizzabile diventa complesso ha altri mille difetti però vale per l'ultimo miglio quindi internamente farete le scelte del caso il formato migliore per quel processo per quell'analisi che dovete fare per quello strumento che avete dentro casa per quel dominio di conoscenza che avete perché voi magari avete un esperto statistico che sta a utilizzare R e quindi lavora con quel tipo di oggetti che R utilizza l'ideale se iniziate domani è mettere in piedi un sistema che utilizza la tecnologia che avete scelto per le N ragioni citate ma che a valle ha come dire il rubinetto da aprire che pubblica dati aperti ci fermiamo tre minuti e riprendiamo grazie mille Andrea io rimango qui in video con voi per rispondere ad eventuali qualunque domanda dubbio curiosità o perplessità vi segnalo nuovamente i link prego allora Simone Bordoni che saluto l'ho lasciato indietro con una domanda ne ho lasciate sicuramente altre domande ragazzi ma la chat è un gioco di fuoco è molto complicato dunque Simone fa una domanda legata all'utilizzo di software proprietario rispetto ai dati aperti non è un po' reduttivo parlare di sporcare i dati con licenze proprietarie allora non so se ho capito probabilmente fa riferimento la dico da due punti di vista uno tanto per cominciare i dati aperti e le licenze aperte consentono l'utilizzo dei dati e l'elaborazione dei dati con qualsiasi tipo di software ho citato il caso di google maps e della licenza che in qualche modo sporcava i dati non perché voglio dire che il software proprietario è cattivo ma semplicemente perché se andate a leggere le licenze dell'API di google maps per fare il geocoding il geocoding è la trasformazione di un indirizzo in una coppia di coordinate quindi se io scrivo via libertà 32 avere latitudine e longitudine la licenza delle API di geocoding riportano più o meno testuale che i risultati del geocoding devono essere ripubblicati su mappe google quindi impongono una tecnologia e quindi quel dato che era aperto in origine nella mia ripubblicazione non è più aperto perché la gente li può riutilizzare ma li deve ripubblicare su google maps quindi quando dicevo sporcare non volevo dire che le multinazionali sono cattive ho usato una metafora ma semplicemente per dire che a volte una tecnologia come nel caso del geocoding impone un cambio di licenza perché la tecnologia può avere delle note sull'utilizzo poi mi viene chiesto a causa della cessazione dello stato di emergenza anche la procedura di accesso ai dati covid non è più attiva restano disponibili quelli in modalità open data dati aperti appunto lo dico bene sì allora tanto per cominciare per come accedete le pubbliche amministrazioni ai dati covid io non lo so io non sono pubblico amministrazione i dati aperti sono ancora pubblicati c'è stato un passaggio di consegne perché finendo l'emergenza sono gestiti non più la protezione civile ma dal ministero della salute in modalità analoghe salvo cambiamenti dell'ultimo periodo non li guardo da qualche giorno ma insomma in modalità analoghe mentre Fulvio di Tommaso chiede è possibile avere una breve bibliografia di testi ripeto c'è nel senso che l'ho predisposta già probabilmente la metterò sempre in tutte le slide nel senso che probabilmente rimetterò le stesse in tutte le slide perché quello che io farò in queste ore con voi non vi voglio rispiegare Adamo ed Eva perché non siamo più in quel periodo diciamo che mi appoggio sulla spalla dei giganti nel senso che ci sono già linee guida importanti normative importanti siti web importanti però sarà mia cura dirvi dei riferimenti didattici formali tecnici per procedere vado avanti e poi alla fine devo dirvi una cosa a proposito di norme allora formati aperti per i dati qui vi annoio un po' nel senso che perché annoiarvi nel senso che magari c'è qualche tecnicismo ma niente di particolare poi in ogni caso la parte tecnica è una parte importante di questi aspetti quindi non possiamo non tenerne conto i riferimenti sui formati li trovate abbastanza diffusi in alcuni documenti un documento chi è nascolto lo può andare a cercare anche in diretta se voi cercate linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico trovate questo documento su Docs Italia che è il sito di riferimento per la pubblicazione della documentazione di alto livello in Italia documentazione su tantissimi aspetti e trovate le linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico lì trovate tutti i temi di cui ho già parlato trovate molto di più e uno dei capitoli è dedicato ai formati allora il formato XML forse per i formati che sono leggibili dalle macchine che sono aperti che sono descritti che sono testuali perché è un formato di testo è forse il formato più più famoso almeno storicamente più più vecchio era un formato che fino a qualche anno fa era un po' il più diffuso per quando si condividevano dati non soltanto nella pubblica amministrazione è un ottimo formato di scambio è un formato standard standardizzato dal v3c e consente di annotare dare struttura descrivere i documenti cosa che magari in un csv non si può fare in un csv in un file a colonne trovate la colonna a e trovate la colonna b nel csv vedremo che non sappiamo se quella colonna è numerica o è una data non è descritto lo possiamo dedurre lo leggiamo possiamo chiedere al computer di capirlo per noi ma in alcuni formati manca la ricchezza descrittiva nell'xml questa cosa c'è non è più un formato particolarmente usato cioè nel mondo dei dati aperti scusate un secondo lo devo bere non è un formato di quelli particolarmente utilizzati chiaramente è utilizzabile ha più o meno questa forma che lo rende così come impostato per questo esempio non so se chi si occupa di questo lo riconosce questi qua sono i tracciati che si mandano ad ANAC per la legge 190 quindi gli obblighi di pubblicazione rispetto ai contratti e come vedete ha una struttura leggibile voi direte ma non è si legge nel senso che chiaramente bisogna avere un po' a che fare con questi con questi formati in particolare in particolare vabbè qui c'è una cura nel rendere leggibile anche i nomi dei dei tag e quindi io leggo 2020 0129 è un po' come se fosse il nome del del campo leggo che è un data pubblicazione dataset e come vedete viene pubblicato come corredo importante con un riferimento alla licenza quindi un formato a tag proprietà valore con la possibilità poi di descrivere ognuna di queste proprietà il json è un po' il formato open ma anche un po' vi direi il formato informatico per certi versi che sta prendendo il posto dell'xml il formato json nei suoi vari dialetti tra cui il più famoso il geo json cioè un formato geografico un formato json geografico per punti linee poligoni per fare mappe è un formato che si sta diffondendo moltissimo lo trovate sia come formato di di download sia come formato tipico di output delle famose API ci torneremo quindi le modalità che consentono di interrogare da macchina a macchina in maniera interoperabile delle banche dati molto spesso restituiscono dei risultati in formato json è anche lui leggibile a schermo abbastanza bene è un po' più leggibile perché è un po' meno ricco l'xml alle volte è un po' troppo da esperto a prima lettura a schermo è un formato più compatto ha molto a che fare con il javascript nel suo con il linguaggio javascript nel suo nome nell'acronimo appunto la j è una citazione del linguaggio ma mantiene la sua indipendenza rispetto al al linguaggio come vedete ho fatto anche qui questo non esiste adesso l'ho creato io perché è sempre il file che per obbligo di pubblicazione viene inviato a inizio anno ad ANAC per per ciò che è stato fatto da ogni pubblico amministrazione l'anno precedente ecco come vedete anche qui coppie chiave valore non l'ho detto precedentemente ma l'altra cosa interessante dell'xml ma anche del json è che è un formato che prevede delle strutture interne cioè mentre il csv immaginate un file excel un foglio elettronico è un po' una singola tabella quindi io ho i miei dipendenti le pizze che vendo i comuni d'Italia e poi posso avere tabelle correlate con le chiavi eccetera eccetera il json e lxml sono formati gerarchici ricchi in cui posso avere oggetti uno dentro l'altro un po' qua si vede da queste gerarchie per cui all'interno del file che descrive i lotti con i codici con i cig di ogni gara all'interno posso avere l'elenco dei partecipanti e l'elenco degli aggiudicatari se fosse una tabella tradizionale queste qui sarebbero tre tabelle la tabella dei lotti la tabella dei partecipanti e la tabella degli aggiudicatari è quasi il formato anzi è sicuramente il formato più usato di testo nel contesto dei developer ve lo cito perché il developer è uno degli utenti più importanti del mondo dei dati aperti perché chi utilizza quei dati magari sarà un esperto di statistica ma ci sarà quello che deve fare magari una certa analisi per un certo grafico un bot telegram un'applicazione e lì lo sviluppatore preferisce avere dei dati informati che lui frequenta ogni giorno il json è un formato di quelli che frequentano ogni giorno la sintassi è più breve molto spesso nel mondo pendata in realtà è utilizzato come formato di export quindi non ha questa ricchezza gerarchica ma molto spesso è appiattito semplicemente con nome campo valore nome campo valore quindi se ci fate caso sembra quasi un csv messo un po' in orizzontale con le parentesi che graffe che limitano gli oggetti che abbiamo dentro dentro il file poi abbiamo i formati a proposito di una nota un'altra guida di riferimento vecchietta ma ancora molto ben scritta è quella che cito in basso l'open data handbook è una guida se non sbaglio scritta ai tempi da open knowledge foundation open knowledge foundation è un riferimento assoluto per chi si occupa di open data andate a cercare open knowledge foundation open data trovate veramente dei bellissimi materiali uno di questi credo che sia loro è l'open data handbook ripeto è tradotto anche in italiano se si va nel menu si trova la traduzione ma comunque è un formato raccomandato dal v3c quindi diciamo da chi fa gli standard sul web molto utilizzato in quelli che sono i cosiddetti link e open data che sono i dati aperti di livello come dire qualitativo più alto perché sono descritti in maniera più ricca sono incrociabili con con altri con altri dati in maniera nativa e diretta e automatica perché se io dico in un che un certo campo contiene certi tipi di codice immaginiamo le partite IVA per fare un esempio scemo e lo descrivo in un certo modo e da un'altra parte c'è la descrizione che viene fatta secondo uno standard quindi due computer scemi sanno che possono fare il join possono linkare dati diversi perché hanno descritto gli identificativi gli identificativi corrispondono anche a degli url nel senso che quel codice come un codice comune corrisponde a un indirizzo avere un indirizzo corrisponde al fatto di poter richiamare quell'informazione sia che io sia che io sia una macchina che è brutto detto così sia che io sia una persona vedremo qualche esempio non oggi in qualche in alcune delle lezioni successive quindi l'RDF è uno dei formati del del mondo dei link ed open data quindi dati aperti che si possono come dire connettere tra di loro in maniera automatica il notation 3 è un altro formato trovate questi formati in tutti i portali che già oggi pubblicano dati aperti in modalità 4 e 5 stelle gli open data non lo vedremo oggi sono descritti con delle la pubblicazione dei dati è descritta con delle stelline un po' come quando si va al ristorante più stelline ci sono più la qualità è alta le 5 stelle sono il massimo livello di modalità di pubblicazione le 3 stelle sono il formato di partenza troverete nelle linee guida open data vecchie e nuove il fatto di partire come minimo da scegliere modalità che sono 3 stelle le 3 stelle sono i CSV ci arrivano tra poco questi formati che sto mettendo adesso sono quelli del mondo 5 stelle l'N3 in qualche modo è una serializzazione del rdf è più compatto rispetto all'rdf ed è un po' più leggibile a schermo questo conta non conta un po' può contare nel senso che delle volte è comodo poter avere un'anteprima a schermo di qualcosa senza che sia il computer anzi diciamo nella gran parte dei casi poi in realtà l'uomo comunque prende le scelte fa una piccola preanalisi dei dati quindi da questo punto di vista è più è più comodo comunque formati che hanno pro e contro un po' dipende anche dalla conoscenza che si ha dentro dentro gli uffici comunque uno dei formati utilizzabili il Tartle è l'ultimo formato che vi cito nel mondo dei 4 e 5 stelle è a mio avviso uno dei più comodi leggibili sia dalle macchine che dall'uomo ma un fatto personale un po' come di fare Juve o Inter ed è uno dei formati che trovate molto pubblicati nei portali che pubblicano anche in con stelle più più elevate di questo caso vi faccio vedere una modalità su come su come si presenta sembra un po' una mescolanza tra l'XML visto prima e un po' il JSON ma in realtà non è nessuno nessuno dei due vi farò un esempio non oggi ma in una delle prossime lezioni diciamo che anche qui c'è un certo rigore nel descrivere anche visivamente gli oggetti ma ci torniamo in un'altra in un'altra lezione stiamo bassi stiamo sui sui tre stelle perché comunque stiamo parlando del formato CSV che ancora per qualche anno sarà il formato probabilmente più diffuso nel contesto degli open data quello che vedete è uno screenshot del portale europeo dei dati aperti nella colonna sinistra trovate la classifica dei formati file più diffusi il primo in realtà è il CSV è un formato file gli altri due il WMS il WFS non sono formati file sono servizi quindi in qualche modo è di gran lunga il più diffuso il secondo è il JSON a proposito dei dati geografici non è un caso guardare che nel portale europeo che colleziona i dati da tutti i portali nazionali europei i dati geografici sono enormemente diffusi da soli coprono la seconda e la terza modalità hanno poi anche dei portali dedicati i dati territoriali comunque il CSV ci esplode in faccia parliamo della modalità file cioè parliamo della possibilità di scaricare dei dati e non di accedere tramite servizi perché se accediamo tramite API le classifiche cambiano il CSV alle volte è esposto come servizio ma non è un formato tipico dei servizi quindi diciamo è molto diffuso dobbiamo tenerne conto ma non perché copiamo quello che fanno gli altri perché ci sarà una ragione diciamo procedurale culturale per cui questa cosa è diffusa non entro però troppo nei dettagli ma anche la gente li sa usare perché comunque con tutti i suoi difetti è un formato che la gente sta imparando a utilizzare nel modello a stelle dei dati ne ha tre i dati sono leggibili perché ci sono probabilmente leggibili ma delle volte è necessario un intervento umano perché in altri formati io il computer sa che quel campo è una data sa che quel codice non solo è un codice non è un numero intero ma rappresenta i comuni d'Italia perché alcuni formati consentono al computer automaticamente di conoscere quelle informazioni mentre nel CSV questa informazione si può intuire può essere descritta da un'altra parte ma internamente non c'è scritta e quindi spesso è necessario per un CSV un intervento ad hoc per per l'utilizzo e di base è un formato che viene reso disponibile ripeto al download e quasi mai tramite tramite servizi è un formato di testo questo è un grande vantaggio ma anche l'XML il JSON il Tartolo il RDF tutti i formati che abbiamo visto sono formati di testo non è l'unica modalità quello del testo dei dati aperti ma è la modalità più diffusa perché i processori nascono i linguaggi di programmazione nascono per leggere righe di testo è un formato di scambio lo sottolineo per dirvi che non è il formato con cui se io devo raccogliere dati ambientali archivio e lavoro in formato CSV esporto e concedo verso l'esterno il formato CSV quindi lo uso per lo scambio internamente utilizzerò Postgre Oracle la modalità mia di raccogliere dati che hanno dei vantaggi enormi rispetto al formato CSV i valori dei campi il formato CSV è un formato da abbellare i campi sono le colonne sono separati da da un separatore che di solito è la virgola CSV è un acronimo che vuol dire comma separated values quindi valori separati da virgola quindi è testuale abbiamo nome virgola cognome virgola codice fiscale virgola e poi a capo Andrea virgola Borruso virgola BNRR eccetera eccetera non c'ha uno standard ma si fa riferimento all'RFC 4180 che è un po' quella che in informatica viene un po' prima della standardizzazione è una raccolta diciamo di commenti request for comment però è il documento internazionale del riferimento in cui CSV è descritto e chi costruisce software da Microsoft da OpenOffice da chi fa Python chi fa PHP ed R fa riferimento a questa documentazione di formato che consente di essere anche open perché è descritto ha questa forma qui è una forma bruttina si può aprire con un foglio elettronico con un bloc note con un database con quello che volete voi ma di suo e del testo separato da virgole non messo tra virgolette perché il separatore può essere quello che volete può essere un pipe l'asta verticale può essere un dollaro diciamo nelle specifiche questo non c'è scritto poi chiaramente io vi dico che da operatore vi consiglio la virgola non il punto e virgola in Italia molto spesso vediamo il punto e virgola perché abbiamo la paura della virgola utilizzata in italiano ma non è un vero problema basta esportare correttamente un CSV e la virgola può essere un separatore perché vi consiglio la virgola perché automaticamente la gran parte del software di analisi pensa al CSV come separato da virgola comunque l'importante è dichiararlo chi pubblica open data dovrebbe avere una pagina informazioni dove dice tutti i CSV che pubblichiamo nel portale hanno come separatore il punto e virgola hanno come separatore la virgola perché non c'è scritto il programma lo può dedurre ma non lo diciamo tendenzialmente non lo legge voi non trovate qui che ne so un commento una cosa in cui c'è scritto separator due punti virgola quindi indichiamolo nella sua semplicità ha tutti i suoi pregi comunque tutti i suoi difetti vi faccio dare un brutto esempio di CSV torneremo in un'altra lezione molto nel dettaglio su cose di questo tipo questo che voi vedete è un CSV pubblicato in un portale in un portale dati c'ha tantissime brutture abbiamo una prima riga di note abbiamo una seconda riga vuota perché questo era un foglio elettronico in cui era stato pensato per farmelo leggere a me a schermo e quindi c'era una nota riga vuota poi di nuovo un'altra riga di informazioni quindi riga 1 e riga 3 mi spiegano le cose ma non sono dati e poi da riga 4 in poi appaiono i dati abbiamo una colonna senza nome questo punto è virgola iniziale no? sarà la colonna territorio visto che leggo Sicilia mezzogiorno centro e in poche righe di un file vero qui non ho voluto mettere appositamente la fonte perché non voglio creare come dire imbarazzi di nessun tipo abbiamo abbiamo anche i campi calcolati quando si pubblicano dati ci torneremo in una lezione dedicata si mettono i dati grezzi non metto dati che aggregano che sommano che fanno percentuale che fanno un parziale e vanno vanno rimossi e poi c'è un altro piccolo problema qua leggete 19.142 il separatore dei decimali è un altro caso classico problematico con i numeri voi direte vabbè ma è è un numero faccio la moltiplicazione no il computer è scemo tendenzialmente se non in Italia noi utilizziamo il punto come separatore delle migliaia nel mondo anglosassone e in tantissimi dati che trovate online trovate la virgola come separatore delle migliaia e il punto come decimale ma poi in ogni caso come numero il punto delle migliaia è soltanto per renderlo leggibile all'uomo per la macchina quel carattere è una stringa quindi diciamo di questi elementi critici nel csv che non che non formalizza che quello è un numero intero e quindi blocca insomma ha dei problemi basta conoscere si pubblicano csv csv eccezionale vi ho riportato in inglese le specifiche del csv che dice che insomma che il primo punto è che non ci sono delle specifiche che ogni riga di dati è delimitata da un ritorno a capo che ci può essere opzionale non è obbligatorio paradossalmente che ci sia la riga di intestazione ci potrebbero essere delle tabelle senza riga di intestazione che ogni riga contiene lo stesso numero di colonne se il valore è assente sarà la cella vuota ma ci deve essere quella quella colonna e l'ultimo campo di una riga può essere o no seguito da da un separatore ci sono casi brutti e particolari andrò nel dettaglio in un'altra lezione come questo strano csv per cui abbiamo il valore a a a il valore b con poi un a capo questo crlf vuol dire semplicemente andare a capo quindi una cella con un a capo questo può rompere le scatole non è un errore non è un problema nella lezione che faremo in merito vedremo un po' come risolvere anche questi problemi di tipo tecnico in macrosintesi se pubblico pendata e pubblico in csv devo essere compliant con l'rfc 4180 ci sono mille modi per fare questa verifica se c'è qualcuno che vuole sapere eventualmente vi do delle delle dritte il separatore e tenete conto che nella gran parte dei casi tutto il software che utilizzate è compliant rfc quindi se esportato da un db open proprietario di buon livello questo problema non c'è se esportate da un gis questo problema non c'è se esportate da sican questo problema non c'è ci sono diciamo siete una botta di ferro però si può fare qualche test standard e verificare visto che può essere un problema il separatore più standard nel senso quello che il computer si aspetta tipicamente è la virgola non siete obbligati a usare la virgola documentatola che è la cosa migliore non i singoli campi possono non è necessario limitarli con le virgolette quindi Andrea tra virgolette Borruso tra virgolette questo non è un obbligo spesso vedete che ci sia pubblicato in questo modo in questo modo le virgolette si mettono quando io scrivo via libertà virgola 5 siccome la virgola è un carattere speciale perché questo è un separatore devo circondare il valore di celle tra virgolette e poi un problema anche qua un po' più tecnico ma lo devo dire perché noi che lavoriamo con i dati ci sbattiamo sempre il tema dell'encoding che cos'è l'encoding? è il set di caratteri che utilizziamo quando scriviamo qualcosa e voi direte e che sono questi set di caratteri pensate alle vostre tastiere pensate a quando viaggiate e andate in un altro paese avrete un set di caratteri diversi perché noi usiamo certi accentati in altri paesi altri accentati quindi sono come posso scrivere dei caratteri dentro un db e quando questa cosa non è ben raccontata ben documentata può avvenire che io ho utilizzato un set di caratteri che funziona bene soltanto in Italia che io apra questi dati da fuori che io apra questi dati mescolandoli con altri set di caratteri che il mio software non sa qual è il set di caratteri utilizzati e allora pensate a quelle volte in cui avete aperto sicuramente a chi utilizza a volte Excel per aprire un CSV sarà capitato quando aprite un CSV e trovate negli accentati tipicamente lì dei caratteri leggibili non avete fatto un errore voi o meglio forse avete fatto anche un errore a voi in linea di massima dovevate dire qual era la codifica dei caratteri e siccome nel CSV non c'è scritta andrebbe descritta nel portale nelle linee guida open data trovate che è consigliato l'UTF8 che è un set di caratteri un po' più internazionale ci può andare un po' di tutto un po' più standard e quindi documentarlo questa non è una cosa da poco noi ci sbattiamo sempre queste qui sono le specifiche sono scritte in questo modo strano che sembra un film di fantascienza degli anni 80 con un vecchio sito web in realtà sono le specifiche diciamo l'RFC in realtà del formato CSV formato dati e forma dei dati sono due cose completamente diverse chi pubblica open data deve andare conto anche della forma dei dati allora una forma classica dei dati è diciamo la modalità con cui ci accedo questo che voi vedete è una modalità che fa pensare anche qui al vecchio web sembra io faccio 49 anni quest'anno insomma c'è ormai la mia età sembra il web dei primi siti web le tabelle l'elenco puntato delle lettere per sfogliare e invece questo è niente po' di meno che il portale per scaricare dati da Eurostat quindi l'agenzia statistica europea un sito eccezionale che prevede di scaricare dati in decine di modi una delle modalità che hanno reso disponibile è quella che si dice in bulk in blocco massiva per cui lo rendono e aggiornano a volte ogni ora a volte quotidianamente il loro set di dati e io posso fare semplicemente click e download nei portelli open data questo non lo trovate però ve lo metto come possibilità perché comunque alcuni di voi potrebbero pubblicare dati aperti senza passare da un portale cosa non raccomandata ovviamente però io posso avere una certa cura nel pubblicare tre file cssv ben descritti in qualche modo e questa modalità esiste perché è comoda è comoda perché per come fa Eurostat c'ha degli urli permanenti quindi se io cerco i dati sulla disabilità in Europa l'url sarà sempre lo stesso i nomi dei file sono sempre gli stessi cioè questa strana codifica che voi vedete classifica trovate da un'altra parte la descrizione di ogni nome file ma la disabilità viene sempre mappata con quel nome file sempre con quell'url e quando voi leggete il report pdf di Eurostat con tutte le figurine carine le infografiche spesso fateci caso la prossima volta in basso piccolo piccolo trovate queste strane stringhe questo perché vista l'infografica bellissima con i pupini le bamboline grandi piccole i grafici gli histogrammi potete poi rifarla perché farete riferimento a quel codice quel codice è un valore importante sono pronti per tutti perché tutti possono fare download io non devo diventare esperto di API non devo diventare esperto di query Sparkle parleremo di questo tema questo si fa si parte diciamo da zero a livello base e poi sono formati perché questi qua sono in TSV che è un formato che non ho citato un bel formato open data è un CSV separato da tabulazione quindi il separatore di campo è un tab e quindi modalità la forma di pubblicazione dei dati è quella forma lì il vecchio web funziona ha dei suoi pregi basta che sia ben fatto anche nei cataloghi trovo il download quindi il download è una forma di accesso ai dati qua siamo in regione Piemonte ma la forma che trovate ormai come dire suggerita raccomandata è l'accesso tramite API vi ho detto già enne volte che è l'accesso pensato per fare parlare due macchine allora in questo esempio qui la macchina la mia macchina il mio pc ha chiesto al portale nazionale di avere informazioni su un dataset che è quello del sistema di gestione delle presenze non so di quale non ricordo più in questo momento di quale portale open data che ha di comodo questa cosa che come vedete io faccio questa interrogazione e mi vengono restituite varie varie informazioni tra cui per esempio la data la data di modifica dei metadati l'email di riferimento di questo dataset e allora se dovete raccogliere informazioni per fare una certa analisi un conto è fare n download finché sono 10 ma se prima voi volete verificare di tutti quei dataset pubblicati dal portale dati nazionali quelli che sono hanno una data di modifica dei metadati in un certo periodo perché state facendo un'analisi di qualità informativa sui dati lo state facendo per motivi aziendali per motivi di ricerca sia della pubblica amministrazione che potete fare questa verifica l'accesso automatico perché ripeto questa stringa per un computer è come fare clic su un pulsante a schermo come fare clic su un pulsante chiaramente è un pc non voglio dirvi che è facile però sappiate che è facile il pc del portale nazionale mi risponde con un'interfaccia quindi la IE è l'interfaccia NPI e mi vengono riusciti dei dati in formato JSON in questo caso li posso raccogliere e fare n elaborazioni sempre di più questa è la modalità consigliata perché io devo iniziare a raccogliere dati ambientali dati sulla salute dati sul traffico dati sull'economia i dati sono sempre tanti sempre di più perché sono sempre di più i sensori soltanto con modalità automatiche che non richiedono strani clic a schermo posso fare veramente analisi dati ricerca business scuola formazione decisioni pubblica amministrazione questa stessa analisi dei dati un'altra modalità di accesso ai dati quindi la modalità API è abbastanza standard vedremo degli esempi prossimamente un'altra modalità pensata pensata per i dati aperti soprattutto ma è generica ma nei dati aperti una modalità raccomandata è quella delle cosiddette query Sparkle è un tipo di accesso per specialisti dei dati non è un accesso per tutte e tutti richiede una formazione sia per chi decide di pubblicare questi dati sia per chi decide di interrogarli ma una ricchezza e dà delle opportunità che difficilmente altre modalità espongono questo è il portale europeo dei dati che ha il punto di accesso Sparkle e questa era una query di esempio che non è lo so che guardarla non è facile se fai se fai il mestiere per chi fa il mestiere questa è una query meno che quella di base voglio sapere quali sono tutti i dataset che citano nel titolo la parola Palermo tra tutti migliaia di dataset pubblicati che non è detto che siano soltanto quelli del portale del comune di Palermo che non è detto che siano soltanto quelli del portale regionale perché io voglio capire dove e come si parla di Palermo esempio scemo ma per farvi vedere poi la potenza di fuoco immaginate è veramente ricco e la cosa interessante è che poi da questa query potete incrociare questa query con database pubblicati in altri portali Sparkle distribuiti diciamo nel pianeta perché poi i codici standard consentono anche di fare queste cose questo vabbè è l'output che ho ricevuto a proposito di encoding guardate qualità dell'aria non leggibile con la A con quell'accento strano il rettangolo qui c'è un problema di carattere non mappato correttamente non riconosciuto non so dirvi di chi è la colpa e non mi interessa capire di chi è la colpa in questo momento ma mi fa comodo proprio farvi vedere un esempio questo è un output ufficiale dal portale europeo la forma dei dati un'altra forma dei dati sono i pixel avete presente le vostre fotografie zoomate 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 sgranate e poi si vede il quadratino quello è il pixel i pixel sono come se fossero delle celle di una tabella e non è come se fossero per certi formati per certe modalità sono i valori e questo che vedete è il golfo di Palermo questi colori che avete mappati sono un'analisi di rischio incendi per noi un problema enorme un po' devo dire su tutto il territorio ma sicuramente la Sicilia purtroppo è di quelle che finisce ogni anno al Tg nazionale anche per questa ragione è in quei quadratini colorati rossi rosa la gradazione di quell'intensità esiste perché c'è un valore in quel pixel che voi pensate quando vedete un grigio che è semplicemente lo sfondo quel grigio è un valore può essere mappato in millemila modi ma una forma di pubblicazione di dati aperti forse è la più grossa attuale perché se voi pensate allo straordinario progetto Copernicus che è il progetto europeo che mette da anni sulla nostra testa satelliti pieni di sensori che continuamente raccoglono dati sul nostro pianeta si stanno raccogliendo una quantità di terabyte di dati per cui la forma pixel è forse la forma di open data oggi più importante e disponibile con cui si fanno anche cose interessantissime su Copernicus torneremo in altre lezioni l'SDMX è un formato che ho trovato e documentato sul sito dell'Agid in una pagina dedicata all'API che le pubbliche amministrazioni pubblicano perché comunque l'SDMX è una modalità di scambio macchina da macchina a macchina è una modalità molto specialistica è pensata nasce per fare parlare tra di loro pensate agli uffici di statistica mondiali gli uffici di statistica tra loro si devono scambiare dati perché il mondo è uno solo quindi la Svezia vaderà con l'Italia per capire meglio il mondo faccio soltanto un esempio come si scambiano loro questi dati una delle modalità è l'SDMX l'SDMX è un modo con cui anche l'ufficio statistica italiano pubblica dati anche gli uffici statistici del mondo pubblicano questi dati molto per specialisti ma esiste e non è un caso che è stato documentato anche da Agid a livello centrale è un formato che ti salva da mille click se diventi esperto di questa modalità non impazzisci a fare n click perché se vi servono dati dal portale dati Istat che molti di voi frequenteranno se devi fare analisi ricche e complesse negli anni su più territori su più temi devi fare tanti click a schermo tanti download mentre le modalità da macchina a macchina se sei fare il mestiere ti consentono di automatizzare e semplificare l'accesso a dati ricchi ma ben descritti vabbè questa non ve la dico sono formati adatti all'utilizzo automatico questi che vengono dall'API quando voi sentite dire machine readable che è un termine che dovreste aver sentito tutti in questi maledetti anni di covid perché comunque sono state fatte tante battaglie in cui si chiedevano dati machine readable e se vi ricordate a inizio pandemia uscivano soltanto i dati in pdf la tabellina poi verdi rossi eccetera eccetera una prima campagna in cui ho partecipato abbiamo chiesto di pubblicare quei dati in formato leggibile da una macchina adatta all'utilizzo automatico e la protezione civile era non solo in ascolto ma era sicuramente in lavorazione perché noi abbiamo fatto la richiesta fate finta una domenica e il martedì uscirono i dati covid in formato leggibile dalle macchine e da quel momento finalmente si potevano iniziare a fare cose con i dati è uno degli elementi chiave del pubblicare dati aperti la definizione in italiano si rende come leggibili meccanicamente non la prendete come una traduzione letterale è una traduzione ufficiale la trovate nella direttiva 2019-1024 del Parlamento Europeo che forse la direttiva secondo me è più bella ma è scritta sui dati aperti è la direttiva che è stata recepita a dicembre 2021 anche in Italia che sta influenzando le nuove linee guida in pubblicazione in queste ore è il formato leggibile meccanicamente è un formato DeFi strutturato in modo tale da consentire all'applicazione software di individuare riconoscere estrarre facilmente dati specifici comprese dichiarazioni individuate di fatto e la loro struttura interna insomma capire cose sui dati non soltanto i valori ma capire lo schema capire la provenienza e così via sempre nella direttiva europea ed è recepita anche in Italia troverete scritto fra l'altro diventerà vincolante tra un po' ma diventerà vincolante anche in Italia gli enti pubblici rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite API adeguate e se nel caso come download in blocco chiaramente stiamo pensando soprattutto a quei dati tipo i dati ambientali i dati sul traffico tutto ciò che varia in continuazione dati disponibili immediatamente dopo la raccolta e con modalità che consentono direttamente il dialogo tra macchina a macchina ci sono dei casi in cui l'utilizzo automatico è quasi impossibile anche qui rivedo non è una bandierina rossa questo ufficio fa delle cose straordinarie si occupa dei dati per le libertà civili e l'immigrazione è il portale statistico sull'immigrazione ha un problema che al momento nella sezione col cruscotto giornale dei dati pubblica i dati in pdf molto ricchi molto leggibili ma è difficile per chi analizza questi dati e sono tanti ricercatori che hanno bisogno di questi dati lavorare con questi formati quindi l'utilizzo automatico abilita e risolve tante robe noi ma non solo noi stiamo provando a dialogare col dipartimento e il dipartimento ci ha risposto sempre e probabilmente quest'anno non si sa la data nel cruscotto statistico verranno pubblicati veramente dati aperti e leggibili meccanicamente questa è una delle tabelle è una stampa del pdf questo chiaramente è un è un problema metadati la descrizione l'ho citato tantissime volte i metadati sono i dati sui dati ovvero quei dati che servono a descrivere il dato quindi quando quando è stato raccolto quel dato ambientale con che strumenti è stato raccolto quel dato ambientale qual è l'unità di misura qual è l'ufficio che se ne è occupato in che forma esprimi una data insomma i metadati sono veramente N1000 ovviamente il titolo la descrizione responsabile del dato alcuni metadati sono obbligatori nel pubblicare dati aperti e poi ho fatto una battuta scema nel senso che ho voluto dire che i metadati sono veramente metà dei dati nel senso che se ci mettiamo l'accento ci fa capire una cosa su cui di nuovo sbattiamo sbattiamo tutti cioè sbattiamo le aziende i ricercatori le associazioni perché se il dato non è descritto alle volte non è interpretabile e quindi posso fare errori gravi di elaborazione o addirittura posso rinunciare alla sua elaborazione questo è un esempio che mi è capitato personalmente una volta andai a dormire dalla zia per uno di quei casi in cui era stato male lo zio e quindi la notte c'era bisogno di presidiare e mi sveglio presto la mattina mi faccio il caffè e metto nel nel caffè il sale stavo morendo praticamente perché più o meno aveva due boccette di questo tipo allora i metadati l'esempio dell'etichetta sale zucchero è un esempio molto didattico ma molto vero cioè anche nei dati succedono queste cose e il profilo per metadatare i dati esiste ed è uno standard obbligatorio per pubblicare date aperte in cataloghi di in cataloghi dati lo trovate descritto su su docs italia è un documento per specialisti ma è anche un documento per tutti in cui troverete per tutti in alcune parti in cui troverete ci torneremo quali sono i campi obbligatori che rendono un dato descritto almeno nelle sue parti come dire minimali almeno mi devi dire queste dieci cose sui sui dati il dato deve essere valutato rispetto alla sua attualità che senso ha pubblicare dati di inquinamento atmosferico una volta al mese farò delle scelte che hanno a che fare con il suo tempo ogni dato ha un suo tempo farò scelte anche su su queste cose cito Obama alla fine non perché sia un tifoso perché la voglio buttare in politica ma semplicemente perché tutto sommato si deve circa dieci anni fa negli Stati Uniti parte parte una prima scelte governative sui dati aperti scelte importanti con norme documenti ed esiti di pubblicazione è una cosa fondamentale che dice mi sembrerà banale è che i dati possono essere benzina per innovazione per le scoperte scientifiche ma anche per l'innovazione io da poco sono stato a un hackathon su dati satellitari e c'era chi utilizzava quei dati per l'inquinamento atmosferico per scegliere dove costruire certi edifici utilizzando certi materiali per il tema degli incendi per il tema dell'uso del suolo ma soltanto per farvi degli esempi quando il comune di Palermo nel 2015 ha pubblicato finalmente i dati aperti su gli autobus cittadini finalmente noi cittadini e tutti i turisti che venivano a Palermo avevano sugli applicativi di cartografia la possibilità di sapere che dovevo scendere in via libertà prendere il 101 risalire in via Abruzzi e prendere il 115 e così via queste cose che diamo per scontato perché ci sembrano quotidiane sono abilitate grazie al fatto che vengono pubblicati i dati di qualità dati aperti di qualità e non sono così scontate moltissime di queste informazioni tipo quelle sui trasporti ancora non sono per niente accessibili né ai cittadini né alle grandi aziende buona lettura e chiudiamo il riferimento più caldo è il decreto legislativo del 2006 numero 36 è quello che viene aggiornato recependo la normativa europea è quello che influenza le linee guida che sono le nuove linee guida italiane per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico dovrebbero essere non so se sono state già messe mentre parlavo in consultazione in queste ore ovvero viene aperta la consultazione alla cittadinanza per fare dei commenti sulle norme il CAD è un documento di Open Knowledge Foundation che definisce cos'è la conoscenza aperta perché gli open data non sono tecnicismi hanno a che fare con la conoscenza quindi prima viene la conoscenza aperta la direttiva europea a cui facciamo riferimento è un documento bellissimo l'ho trovato ovviamente anche in italiano le linee guida qui ci sono le vecchie e le nuove dovrebbero essere pubblicate oggi il piano triennale per l'informatica la strategia europea in materia di dati dove si va sul business sulla privacy sulla ricerca quindi basta dati aperti pensati per obblighi formali ma per fare cose e ovviamente le linee guida sul catalogo dei dati mi fermo Andrea grazie mille con una puntualità certosina per cui grazie mille davvero e grazie anche per tutti i commenti che stanno arrivando devo dire molto molto positivi è stato un incontro denso di informazioni di contenuti ci hai fatto e ci hai fornito una carrellata molto interessante sul discorso licenze sul discorso formati sul discorso forma sicuramente sono tutti elementi che saranno fondamentali e che hanno gettato le basi per poter comprendere e strutturare meglio insieme i prossimi i prossimi incontri vi do l'appuntamento colgo l'occasione per il prossimo incontro che non è di giovedì come solitamente facciamo ma di martedì per cui l'appuntamento è per martedì 21 giugno sempre alle ore 9 e 30 sempre in compagnia del nostro Andrea Borruso andremo ad affrontare il tema della preparazione proprio operativa dei data set e delle risorse grazie mille Andrea grazie mille a tutti quanti e una buona giornata grazie buona giornata grazie mille a tutti